Chiara Ferragni ha trovato la gonna perfetta, eccola Una gonna può essere talmente perfetta da ricordare addirittura in simbolo di una storia d'amore? A quanto pare sì ed è proprio Chiara Ferragni ad aver trovato la mini giusta per lei L'influencer di Cremona mostra il modello alle sue fan, un successo. Chiara Ferragni è la gomma perfetta, design d'amore Quale sarà la particolarità della gonna perfetta trovate da Chiara Ferragni? Come dice lei stessa su Instagram, nel video condiviso con tutti i suoi follower, questa mini è veramente il perfetto simbolo della storia d'amore tra le e Fedez Di cosa stiamo parlando? Non si tratta di una schirta a forma di arena di Verona, in caso steste pensando a uno dei luoghi dove la passione dei due piccioncini più chiacchierati d'Italia ha preso letteralmente fuoco Ci stiamo ovviamente riferendo alla proposta di matrimonio che il rapper milanese ha preparato in ogni minimo dettaglio proprio sul palco dell'arena, sorprendendo la fidanzata rendendola la donna più felice del mondo Ma no, non è questo che ricorda il design della nuova gonna di Chiara Forse qualcosa che abbia a che fare con un papillon o la cagnolina Matilda? I fan più appassionati, in effetti, dovrebbero sapere quanto questo accessorio super chic della bulldog francese di Chiara sia stato il perfetto galeotto della loro liaison Un ripasso veloce? Fedez ha colpito la sua futura moglie inserendo in una delle sue canzoni più famose, Vorrei ma non posto, questo dettaglio di Matilda, il cane di Chiara Ferragni ha un papillon di Witton e da lì tutto ebbe inizio, con una serie di botte e risposta dei due sui social sfociato poi nel loro primo appuntamento Ma anche questa volta non siamo sulla strada giusta Magari qualcosa che ricordi Milano, la città dove si sono conosciuti nel dicembre del 2015? Oppure di Los Angeles o New York o le Hawaii, alcune delle località dove hanno trascorso momenti di vacanza più unici che rari No e ancora no! Ma che forma alla mini di Chiara? Non ci crederete mai, ma la nuova gonna è una e raviolo schier La gonna di Chiara è un omaggio ai Ferragnez Chiara Ferragni è in un negozio a Milano a provare vestiti ma, a un certo punto, ecco il capo dabbigliamento definitivo, quello che proprio non può mancare nel suo immenso guardaroba, una gonna a forma di raviolo Proprio così, è questo il particolare design della mini scovata dalla Ferragni in una boutique Unica differenza con la nota pasta ripiena? Giusto il colore, visto il blu elettrico, ma il modello in effetti richiama tantissimo l'idea di un raviolo, con le sue frappe laterali I raviolitos, ovviamente, sono proprio i due Ferragnez, che amano appellarsi con questo dolce nome Non solo, i due sono talmente affezionati al loro nickname da aver fatto qualcosa che sarà e per sempre, Chiara e Fedez, infatti, hanno deciso di incidere sulla pelle un tatuaggio a forma di piccolo raviolo sorridente e stilizzato Un grande gesto, soprattutto da parte del rapper milanese che, effettivamente, ama ricoprirsi di altro tipo di tatuò, mentre lei, la Ferragni, ha circa una ventina di minuscoli tatuaggi Cosa non si fa per amore Cosa non si fa per amore